Enrico, scusami, ma ho capito bene, hai detto che voi prima di entrare nella casa eravate in crisi? Non ti so dire se eravamo in crisi, ero io in crisi. Le persone si adattano a quello che tu fai. Io non ero sicuramente la persona più amorevole del mondo, ma come tutte le persone che non riescono a trovare una via d'uscita, per me le responsabilità erano sempre degli altri. Io questa cosa l'ho toccata con mano fino alla scorsa settimana. Poi mi sono arrivati tre o quattro schiaffoni belli, forti, e me le hanno date delle persone che qui dentro non mi devono niente. E quindi se lo hanno fatto, lo hanno fatto perché l'hanno sentito di volerlo fare. Io a queste persone sono molto grato, è il motivo per cui ti dico che restare qui mi farebbe tanto piacere perché questo percorso io lo voglio fare lontano dalle persone a cui potrei far del male. Però se il mio testile si deve... Si dovevi rinascere così non venivo. Oh! I went up in the rain suddenly everything change! Grazie a tutti.